Il suo libro sarebbe un successo in circostanze normali. Non ci serve solo la sua storia, ma anche quella dell'altra madre. Catherine, la risposta è no, ok? Ho una bottiglia di vodka in camera. Pensavo di berne qualche bicchierino e guardare la tv. Conosci Emmett, il mio ragazzo? We're a little too loud or a little too close Got a hurricane in the back of her throat She thinks she's wearing a candy Switch at birth, al posto tuo. Mercoledì alle 21.30 in prima visione esclusiva. Solo su DJ TV.